Comunque per me sa chi esce stasera Per me il libro esce esce E invece la te dice che esce Eh lo so ma essa non esce Essa no E' forte voglio E' forte perchè quella è una tosta Cioè nel senso che E' una tosta nel senso che è una bella personalità Cioè io come personalità figlio Ti la stimo Che non ci vado d'accordo Si ma questo non significa nulla Non è niente Eh lo so infatti ieri io mi sono incazzata con Gianna e Roberto Cara mia proprio per questo motivo Dice quasi da non aver scontato troppe cose Vuoi dire che io non esco in base a questo Stiamo facendo fin di niente Ma io posso pure escire in mare Cioè io oggi posso pure escire che non sapevano Che ne so io fuori come va la cosa Dice no tu non esci siamo sicuri Ma che siamo sicuri che Cago questo concetto poi chi invece non è sicuro Non riesce perchè viene portato più Eh allora Io non do niente per scontato Come non davo per scontato la settimana scorsa che uscisse Carmela Una cosa è che tu fai coraggio a un'amica A pensare che Carmela non uscisse No 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 io ero sicura che Carmela uscisse Però non è che lo dicevo ogni 2 e 3 Carmela esce Carmela esce Carmela esce Ma da che Carmela era comunque Il fatto che lei voleva uscire Esatto Era stato pure un accontentare Carmela Ma qua vogliamo rimanere tutti e quattro in questa casa E tutti quanti hanno la quota di voti fuori Che l'aspetta perchè vogliono bene a tutti e quattro Penso che siamo quattro persone volute bene Da amici e tutti quanti Come? Quindi Come dico si dice tu non esci ma chi l'ha detto che non esce? O no ti trovi con me? Sì vabbè però non è Poi penso che sei ben voluta e tu dico fuori Penso che Ma anche io non penso che tu esci eh no Sì lo so io l'ho lasciati lì apposta Comunque grazie Se li metti Ma mettili lì sopra me li prendo io Grazie mille Sì 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 Mi devo andare a fare la doccia Benny la tua maglia la metto nella camera da letto tua Ciao Grazie Nulla Che dico No ho visto un mostro E poi E poi Gian che ci faceva i miei piedi Eh ma io non ho fatto il posto del lavoro No 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 veramente se l'ha fatta la licea se hai una cosa per stare la bambina No veramente non ti ricordo No che l'ha appoggiato è fatto così Non ho messo il peso Che eravate una a destra e l'altra a sinistra Perché voglio dire Eh sì Sì no Invece di dire sì In provincia si dice sì no Sì no Ma non lo sapeva Il terzo ce l'ho io nel letto Il quarto ce l'ha appoggiato Ma chi quando tu hai appresso all'ora Se non ti rimane nel letto Non te lo senti Non c'erano un cavo c'è tutto tu E poi si è tornata Io andiamo a fare un po' di shopping Ha detto bene Dittemi che sono stupenda stamattina E' bellissima E' vero E' vero E' vero Andiamo Poi ti si fa il quadricipite così Vai Elena Non si deve essere tornata quando avevi 18 anni Una cigaretta Una ce l'ho là dentro Accendino Vado a prender Oh Che c'ha A metterli Si mette con la base Che vanno Ma veramente con la base Sta correndo Silvia Corre Si ma fammi vedere E' una sorpresa Vado a prendere Vado a prendere Vado a prendere Vado a prendere I giorni in bagno Lavate Ma me lo chiedi Ma stai scherzando Sì Stella Ragazzi andiamo Di buon asficio Bellissima 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 E' una sorpresa E' una sorpresa E' una sorpresa Mia Mia Ma non è la prima volta che la metto Si 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 Con i pantaloncini Vado a prendere Vado a prendere